siamo entrati togliamo subito questo smazzonamento qua da questi alberi che sono degli alberi con dei mattoni al posto delle foglie ok e qua abbiamo una novità intanto qua abbiamo la ship aprile vale il succhiatore ecco il succhiatore inseriamo il succhiatore con spazio e cosa fa il succhiatore va a pensare a tirare su crea questa forza che spinge per giù e più propulsione qua perché se no non c'è la si fa allora adesso sostituiamo questo propulsore facile con questo più bello copioso vai vediamo se c'è la si fa vai spingi di là spingi spingi grande grande un po' troppa propulsione eh però un po' troppa ok siamo vai giù giù ok andiamo su e qua e qua c'è il passaggio struito da questa cassona enorme che dobbiamo evidentemente spingere anzi tirare ok andiamo qua per esempio qua ho salvato già il succhiatore a sinistra ecco il succhiatore a sinistra ok vediamo un po' il succhiatore se riesce a succhiare bene vado vado tira 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 ancora vai vai tiralo tira tira grande vai vai ancora un po' ancora un pochino vai grande yeah ce la si fa con difficoltà adesso è sbalanciatissima eccolo non ce la fa cerchiamo di succhiare anche questo succhiolo dai ok grande ecco molto sbilanciato verso sinistra non ce la fa più oh adesso siamo questo qua com'è e qua si complica la faccenda ecco bisogna tirare questi propulsori vai allora cerchiamo di mettere il succhiatore intanto in basso un ottimo succhiatore in basso succhiatore in basso ok e poi ci vuole un po' di spinta in più perché centrale però non posso andiamo a sostituire questo che è un po' più più potente vediamo un po' se ce la si fa ok però la spinta cerchiamo di succhiare cazzo un po' difficoltoso perché il controllo è veramente duro ostico dai cerchiamo di spostarlo di là no la proporzione non mollarla non mollarla la proporzione la proporzione dai dai allora tira 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 vai vai coraggio 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 spingi lo spingi ecco inserisci il pezzo all'interno di di questa cosa qua ecco cerca di tirarlo lo tira vai ok ce ne vuole ancora uno lanciano lanciano grande 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 andiamo ne bastano due ne bastano due scappiamo grande ok abbiamo superato queste situazioni ostiche così che ci capitano continuamente in questo gioco e qua andiamo qua sotto cosa combiniamo qua sotto ecco c'è questo carro lì sulle rotaie e poi c'è questa barriera che non ci fa passare e bisogna trovare il modo per spingere quel carrello qua fa scendere le casse e si appassa questa lastra è un po' ostico qua però per esempio andiamo qua abbiamo per esempio il carrello su rotaie ecco cosa abbiamo fatto un bel succhiatore a destra e un bel propulsore potente eeeh eeeh c'è di qua di là eeeh andiamo a dare la spinta vai così eeeh no cerca no si è incassato no allora tira lo tiri lo tiri e poi poi dai una bella spinta dai che ce la fa passare vai vai di culo di culo di millesimi proprio di millesimi di miliardesimi ok e ce la facciamo grande dai e passiamo il livellino ecco questo giochino è straordinario così ti allena le sinapsi ti fa incazzare e poi ti da anche le statistiche ti fa collezionare parti eeeh si è pieno pieno di novità e sono contentissimo perchè è un giochino così raramente capita un bel giochino si yeah eeeh